Circa 5.000 è il numero degli incidenti stradali che sono avvenuti con morti o feriti nella provincia di Napoli nel anno 2011. Un numero che tende a diminuire se è constatato con gli oltre 6.000 del 2009. Questi dati del monitoraggio del fenomeno dell'incidentalità annunciati questa mattina in prefettura di Napoli dal prefetto Andrea Di Martino. Sono fortemente incoraggianti e segnano, a mio modo di vedere, un cambiamento di modo di intendere la guida. Sicuramente continuano a esserci notevoli casi di incidenti per eccesso di velocità. Ma nel complesso noi abbiamo un abbattimento del numero dei feriti, grazie a Dio, che passano dai circa 3.000 del 2009 ai 1.700 del 2011. Maggio e luglio, i mesi di maggiori incidenti nella provincia di Napoli e i giorni martedì e venerdì i peggiori della settimana. Analoga diminuzione riscontrata su quasi tutti i tratti autostradali, nonché su alcune strade statali. Diminuzione che può essere ricondotta sia all'estensione del nuovo sistema di controllo elettronico sulla velocità media del tutor, sia ad altre azioni messe in campo dalle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno. Permane invece un aumento di incidenti per quanto concerne la tangenziale di Napoli.